buongiorno buona riapertura a tutti allora oggi ci sentiamo quasi rinati e mi raccomando però vi devo fare una raccomandazione adesso non andate allo stato brado perché sennò ci richiudono questo è il tot va bene dopo di questo oggi faremo come vedete sono struccata perché faremo un trucco molto veloce fighissimo perché sono andata in fissa con questi nubamore allora il nubamore che è molto similare all'acqua touch di chanel che cosa fa mi sono innamorato perché è una cipria praticamente liquida voi che cosa fate allora hanno fatto delle nuance nuove che sono queste vi devo dire la verità appena uscito che è uscito l'anno scorso io l'ho proprio ignorato e mi sembrava troppo grasso mi sembrava un fondotinta comunque inutile non è invece no invece no invece no perché ho sbagliato l'ho accantonato subito e invece non era così la storia allora io utilizzerò l'84 mi raccomando quando lo utilizzate perché questo è un fondotinta che va utilizzato in mezzo alla stagione nel senso noi usavamo per chi soprattutto soffre di pelle grassa o di sebo nel punto t usavamo il nubamate ve lo ricordate che era la cipria compatta che è il top secondo me fa proprio la pelle di porcellana è molto buono però chi soffre di pelle secca come me potrebbe avere dei problemi nel senso che secca troppo quindi il nubamate è questo voi lo mettete con la spugnetta normale oppure per renderlo e è una cipria diciamo minerale per renderlo compatto bagnate la spugnetta strizzate mettete 60 secondi si fissa e vi dura tutto il giorno però a me rimaneva comunque un fondotinta un pochino troppo secco quindi sotto mi ci mettevo la lumachina nostra la crema vegan mi è arrivata tutta la linea vegan loro hanno certificato qualsiasi cosa anche doccia schiuma con il simbolo vegan non solo perché è vegano ma anche per chi soffre di allergie perché sono testati cosmo natural al 99 100 per cento quindi sono una bomba dovete provare l'acqua micellare perché vi strucca subito una cosa fantastica i prezzi sono contenuti e niente poi il rappresentante dai federica prendi nubamore guarda che a roma si vende roma si vende quindi noi utilizzeremo oggi io lo farò con le mani perché al solito me so scordata spugnetta questo è un colore via di mezzo che è il mio colore dell'incarnato però un pochino più abbronzatino perché siccome che sto prendendo il sole anche per strada guardate anche come si stende velocemente allora vi ripeto 60 secondi e si fissa allora non fatevi suggestionare come ho fatto io dall'effetto acqua allora lui è all'acqua ma non mette l'acqua quello che non avevo capito io perché posso anche sbagliare lui che cosa fa va a togliere l'acqua dove ce n'è troppa e la va a mettere dove non c'è quindi che cosa succede? allora quando lo stendete sentite proprio ecco come se fosse è una cipria liquida diciamo che questo ha sostituito le cc cream le bb cream perché perché essendo una cipria liquida guardate guardate l'effetto dopo ve lo faccio vedere meglio al sole è naturale è la vostra pelle praticamente un pochino più compatta più porcellanosa diciamo allora è tantissimo il prodotto ha una scadenza di 18 mesi perché come voi sapete la nomba non lavora con i siliconi e non testa le cose sugli animali è tutta made in italy dopo di questo con questo trucco veloce guardate vi servono soltanto due prodotti no tre col mascara è lui allora loro sono i blush in crema che ha fatto nomba con questi blush ci fate tutto io prendo lo scuro perché mi piace di più ma anche l'arancio allora oggi per esempio che sono vestita un po' animal ci andrebbe bene l'arancio proviamolo allora si espandono molto facilmente eccolo guardate fa l'effetto blush guardate la differenza perché è luminoso ma non fa l'effetto toppa visto che andiamo verso il sole visto che quest'anno c'è una moda tutta molto naturale molto nude molto figlia dei fiori guardate che effetto è leggerissimo e la bella cosa di questi che si fissano ma che si possono utilizzare come ombretti guardate ma guardate la naturalezza che vedete questo è arancio guardate che carino comunque sopra l'occhio poi voi che cosa fate loro hanno fatto anche il qui che è un effetto nude allora io utilizzerò il 15 perché sono molto chiara no forse no scusate il 16 perché il 15 è un po' a tortora vedete e questo ha un effetto molto nude che cosa fate invece di mettere la polvere mettete il nude sotto la sopracciglia ok poi dopo vedete allora questo si può utilizzare anche come primer quindi vi do questa bella notizia guardate e viene un effetto molto naturale che cosa ci fate poi non vi volete mettere il rossetto non volete volete fare proprio una cosa naturale a parte che c'è l'aila che ha fatto gli eternal che dove ci sono quelli effetto gel che sono molto molto naturali e li ha fatti anche nuba il prezzo è diverso l'effetto è diverso vedete questo comunque naturale si fissano non si tolgono più si tolgono solo con latte detergente oleoso stessa cosa gli pink elisir loro sono oli vegan tinte labbra vegan ad olio e sono molto naturali e anche questo potreste metterlo ma che cosa volete fare se voi portate solo tre prodotti nella borsa perché è solo per rifarvi il trucco fate questo no voi dovete guardare sembrano le mie labbra naturali ma sono truccate quindi questo vuol dire che sono più definite che non sembra non sembro scolorita perché ovviamente non avendo ancora l'abbronzatura e volendo fare un trucco naturale tante volte quando usiamo con dei nude troppo naturali ci abbiamo l'effetto diciamo che non si piace sul viso quindi che cosa fate dopodiché dopo di questo mettete soltanto una matita io per esempio utilizzo adesso il cajall quello della laila cajall saten a ragazzi prossima settimana mi arriva tutta la roba dei fedez che sono adesso ve lo spiego perché io ho postato lui e lui diciamo tagga tutti i rivenditori sono semi permanenti hanno fatto dei kit appositi dove addirittura c'è anche la lampada che non vengono tanto perché non ha tutto il kit semi permanente c'è la base che è la base top coat c'è poi il semi permanente e è tutto compostabile compostabile ha fatto 5 colori basic di cui il bianco che si illumina al buio è fighissimo giallo rosso rosa rosso che poi è un corallo rosa verde e si possono acquistare da soli il prezzo è uguale a quelli dei semi permanente laila classici che noi già conosciamo è la linea che ha lanciato lui è la linea che diciamo una parte andrà devoluta sempre comunque a un'associazione benevola come come fanno loro insomma io li amo per questo loro lo sanno e quindi vi aspetto e intanto metto il il cacciaal guardate come è definito il cacciaal laila anche se voi fate solo il dentro quindi è comunque un naturale chi lo vuole ce l'ho anche marrone effetto naturale e poi vi sparate il mascara allora io utilizzo sempre il maxitec della noob e voi lo sapete ma c'è anche per chi non vuole lo scopolino in silicone che ripeto è molto morbido e quindi fa queste ciglie che sono effetto ciglia finte ho il volumaxi che è lo scopolino piramidale viene 20 euro in offerta regala la matita nera così neanche dovete comprarvi il cacciaal perché la matita nera nooba rimane diciamo è sia per dentro che per fuori rimane guardate l'effetto naturale ecco qua guardate che carino così andiamo veloci utilizziamo soltanto tre prodotti al limite quattro con con il timbrino delle sopracciglia guardate sulle labbra sembra che non ho nulla però sono definite avete capito il mio effetto? magari non vi va di vestirvi mettete una tutona fate l'effetto così naturale utilizzate un prodotto solo secondo me si blush in crema però sono effetto proprio seta quando li mettete sono molto delicati e fanno soltanto l'effetto roseo perché tante amiche mi dicono no no io il blush non lo metto perché mi fa la chiazza mi fa comunque si vede che c'è invece guardate questo questo non si vede che c'è da solo questo effetto molto roseo allora poi timbrino io utilizzerò il numero 4 fatemi vedere ah nel frattempo mi sono arrivate anche le matite vegan della malinca non solo per chi soffre di allergie ma anche per chi cioè non solo per chi è vegan ma anche per chi soffre di allergie e ciò il viola l'ottanio il marrone il color burro che non si trova da nessuna parte e ragazzi vengono 4,90 euro sono compostabile potete temperarle nel cestino dell'umido praticamente anche tutti anche tutti gli involucri dei semi permanenti che arriveranno andranno buttati tranquillamente nella plastica addirittura le etichette sono fatte di di plastica di mais che non è una plastica non so come si dice di mais proprio di foglia di mais quindi ragazzi stiamo facendo un lavoro fantastico e sto cercando di eliminare la plastica e voi lo sapete che faccio tutti i pacchetti fatti a mano con la paglia con le conchiglie con tutte cose che troviamo ecco vedete i barattolini anche tutto ciò che ho all'interno del negozio cerco sempre di limitare allora trucco completo con tre prodotti abbiamo fatto blush che ha fatto blush rossetto e ombretto acqua touch diciamo che è il nubamore della nubba e il mascara praticamente voi con neanche 50 euro forse 60 con 60 euro ci avete nella vostra borsetta tutto il kit per rifarvi il maquillage veloce va bene ragazzi vi aspetto vi aspetto a tutti abbiamo comunque continua la promozione su tutti i profumi come vedete e voi lo sapete bene che nessuno sta facendo più le promozioni sui profumi ma noi si vi aspetto con la linea vegan da provare con le creme mani e la linea capelli che è straordinaria ho ancora qualcosa di NBR prima che mi arriva la collezione completa che tolgono lo sconto approfittate è arrivata NEC come avete visto con tutte le bamboline cagliarde è arrivata Kelly Gross che ce l'ho io e la coin che è fantastica pelletteria veneta l'artigiano ci abbiamo ancora qualcosa 40-50% anche il 60% e ci abbiamo tutta la linea d'aeronautica militare che è micidiale guardate guardate che polo allora vi aspetto R.D. Profumeria Centro Comerciale La Palma buona giornata grazie a tutti